Ecco, a volte ritornano sul Gran Sasso, vuol dire che avete apprezzato l'esibizione dell'anno scorso? Presidente, noi non so, noi abbiamo anche apprezzato, forse poi un po' meno dello spettacolo scorso anno, però avevamo detto, l'anno prossimo torneremo, voi l'avete presa come minaccia, noi come promessa ed eccoci qui. Siamo onorati di essere qui e presenziare come gruppo di Roccarasa. Allora l'appuntamento è un anno prossimo, ci saremo anche l'anno prossimo.